Ma cos'è sto telefono? ...della prostituzione BAPPANCULO! Tutte le volte che parto Preso nella vista da baffanculo ti e tutti quanti qui come ti Dai andiamo Benvenuti nel canale del Purnio Vediamo se scudiamo con O Diego Forlan, o Clouif, o Raul Questi sono due giri gratis offerti dalla Konami Direi proprio di no Danny Garcia incontrista, normale e media Ciao Ok, andiamo col secondo giro Direi proprio di no Che blocca Dove è anche la lettera D Svincola Vabbè dai, quante monete abbiamo? Ne abbiamo un tot Quante ne abbiamo? 1.440 Dai, me ne gioco due giri Ci fermiamo a 1.000 Tanto Chi se frega Facciamo quattro giri Normale e media Svincola La cancela di nuovo Mi ha dato Ce l'ho già Ce l'ho questa qua C'è voglia, malattia C'è ma che giocatore mi sta dando A parte che non ce ne sono Ma dammo un giocatore decente C'è ma che Facciamo un gioco che non ce ne sono E non ce ne sono Svincola di nuovo Kluif Kluif No ma ci ha dato Kluif e anche Forlan Non ci credo Ah si Kluif e Forlan mi ha dati tutti e due E poi vabbè mi ha dato 5 storpi Che vabbè adesso vedremo Grande Direi buono Vabbè se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace e ci sentiamo Nel prossimo video Non so quando Ciao ciao